Parliamo di aspettative nel sonno dei nostri bambini, diciamo 0, 1 anno più o meno, comunque anche quelli più grandi si svegliano. La mia amica mi dice che suo figlio dorme tutta la notte, 12 ore filate, 10 ore filate, non si sveglia mai. Benissimo, questa è un'eccezione mamme, un'eccezione che conferma la regola, perché i risvegli nei bambini sono fisiologici, ok? Gli servono, devono farli risvegli, quindi mettiamoci l'anima in pace. Cosa dobbiamo però guardare noi? Noi dobbiamo stare attenti che questi risvegli siano effettivamente risvegli fisiologici, ovvero dei risvegli facilmente gestibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari il bambino si sveglia, poppa 5 minuti, 10 minuti al seno e dopo 15 minuti è bello che è riaddormentato, magari vuole essere cambiato il pannolino, un po' di coccole, un po' essere cullato, però poi nel giro di 10-15 minuti dorme nuovamente. E quanti risvegli fa? 4, 5, 6 risvegli, ok? E così andiamo tranquille. Se invece abbiamo un bambino che si sveglia 20-30 volte a notte, che magari dobbiamo cullarlo un'ora prima che si riaddormenta, il seno non gli basta, oppure ci sono bambini che stanno svegli 2-3-4 ore durante tutta la notte e magari vogliono anche giocare in questo tempo, ecco qui forse si può intervenire con una consulenza, con una consulente del sonno o con una poricoltrice, insomma con qualcuno specifico per questa problematica. Assolutamente invece nel caso precedente, anche se mi chiamate, io non ho la bacchetta magica e non posso risolvere una cosa fisiologica, quindi quello che dobbiamo fare è osservare il nostro bambino, calare le aspettative riguardanti il suo sonno, e quindi sinceramente chiederci, il mio bambino fa dei risvegli normali, quindi fisiologici normali, oppure forse abbiamo un piccolo problema con il sonno, questo è il primo passo, però ovviamente mamme non aspettatevi che un bambino di 3 mesi, di 4 mesi, 5 mesi, di un anno anche, dorma 12 ore filate, assolutamente no, ovviamente da più piccolo fino a diventare più grande, i risvegli dovrebbero diminuire ed essere sempre più facilmente gestibili. Spero di averti aiutato, di averti tolto un po' di ansia, un po' di stress, scrivi nei commenti quante volte si svegliava tuo figlio e se i suoi risvegli erano facilmente gestibili. Ciao!